Mi chiede forse una sensibilità particolare di vedere un mondo in cui ci sono tanti ingrati in cui lui la resa, io sono presidente del comitato scientifico e posso dire il nome dei miei membri di questo illustre comitato scientifico, alcuni dei nostri desideri, senza la quale si prendete qualche modo con una persona che vorrebbe essere senza la sua infanzia, senza la sua adolescenza. E questo era diciamo il primo scopo. La seconda cosa concerne il Mediterraneo in padotale. Abbiamo potuto constatare, tanti di noi collaboratori, questa impresa diretta da Michele Capasso con un'energia straordinaria napoletana, un'altra cosa che abbiamo visto alla quale abbiamo voluto reagire. Nel Mediterraneo stesso, questa forza dell'identità mediterranea. E abbiamo avuto proprio, e questo va per tutti il Mediterraneo. Questo va per il sud dell'Europa, dunque è unile per questo luogo, questa forza dell'identità dell'essere e dell'identità del fare. Ci sono tanti scopri, una cosa di un grado di tutto, ma voglio dire alcuni che sono gli ultimi e che sono dinanzi a noi. Dopo la tragedia del terrorismo, vi spiego. L'islamismo e l'islamismo non sono la stessa cosa. L'islamismo e il fondamentalismo non sono la stessa cosa e lo vediamo sempre identificati. Anzi, il fondamentalismo, c'è una differenza tra un fondamentalismo mistico, riuniti in questa accademia di tutte le nazionalità, la sponda al nord e la sponda al sud, ci siamo trovati un po' più forti.